Ben ritrovati in seconda parte di Buongiorno Friuli, siamo pronti per sfogliare assieme i quotidiani sportivi nazionali e locali. In primo piano l'Udinese che si sta preparando alla grande sfida contro il Milan. Un Milan che proprio ieri ha recuperato la sfida di campionato sospesa al tempo per il crollo del Ponte Morandi contro il Genoa. Milan che si è in posto per 2-1 salendo al quarto posto in classifica. Apriamo però con l'Udinese, il messaggero si concentra in apertura sul dualismo per la porta dell'Udinese. Scuffè escluso, sarà un motivo di riflessione. La gente Claudio Vagheggi sorpreso dalla scelta di Genova. Chi dice che io faccia la formazione a Velasquez è servito. Sono 9 le gare da titolare in questo campionato per il portiere Friulano. 13 le reti che ha subito. Cosa dicono i tifosi? Dicono di continuare a dare fiducia a Simone Friulano. Diamoli altro tempo. L'argentino sarà il portiere del futuro. La scelta di Velasquez di rimettere in panchina il bianconero di Remanzacqua. A vantaggio di Musso divide i sostenitori bianconeri sui social. Qualcuno si chiede preoccupato. Scuffette volete proprio bruciarlo? Ma naturalmente ci sarà tempo per il riscatto. Nel frattempo l'emigrante Gerolin ritrova Maxi Lopez. Sarà consulente del Vasco da Gama. L'ex DS bianconero lavorerà in Brasile dove ha pescato molti talenti per Gino Pozzo. Sul fronte preparazione invece vediamo come prosegue la preparazione verso la sfida contro il Milan. Scatti sedute con il gruppo. Macis cerca di recuperare. E' cominciato con gli scatti. La sessione di allenamento svolta quasi al completo insieme ai compagni. La rincorsa di Darwin Macis al Milan. L'attaccante venezuelano non è ancora pronto. Reduce dal risentimento muscolare. Ma appunto Velasquez potrebbe già convocarlo per domenica. Specie se il tecnico confermerà l'intenzione di alzare Pussetto a ridosso di Lasagna. La velocità di Macis e con gli strappi che può garantire potrebbero infatti tornare preziosi in corso d'opera. Al punto che il gigante di Malden vorrebbe tornare poi dopo la sosta con la Roma. Ospite lo stadio Friuli sabato 24 novembre. Andiamo a vedere, dicevamo, del Milan che ieri ha recuperato la sua gara contro il Genoa. Un Milan che sale in zona Champions, battuto il Genoa, ora il Friuli. 2-1 il risultato, al quarto il vantaggio di Suso. Poi nella ripresa l'autogol di Romagnoli che ha riportato il Genoa in parità al 46esimo. E lo stesso Romagnoli a siglare la rete vincente che vale i tre punti. Andiamo a vedere il recupero, i risultati, la classifica aggiornata. Milan-Genoa dunque 2-1. E in classifica il Milan raggiunge la Lazio quota 18 al quarto posto preceduti da Inter e Napoli a 22 e della Juve a 28. Per quanto riguarda le gare, domani si gioca Napoli-Empoli alle 20.30. Poi sabato Inter-Genoa, Fiorentina-Roma e Juventus-Cagliari. Domenica, Lazio-Spal, Chievo-Sassuolo, Parma-Frosinone, Sampdoria-Torino, Bologna-Atalanta e appunto Milan-Udinese-Milan alle 20.30. Ieri si è giocato anche in Serie B la decima giornata. I risultati, Ascoli-Verona 1-0, Carpi-Palermo 0-3, Cittadella-Foggia 1-1 così come Cosenza-Pescarala. Il Venezia torna alla vittoria in casa della Cremonese 1-0. perde il Padova 3-2 con la Perugia, rinviata Spezia-Benevento, Salernitana-Livono 3-1, Lecce-Crotone 1-0. Continua a guidare il Pescara a 19 punti, seguita dal Palermo a 18. Verona e Salernitana a quota 17. Ancora con le pagine sportive del messaggero, trasporto e giustizia. Ieri la notizia che ha fatto il giro del web, Iacquinta condannato a due anni per le pistole prese dal padre. cade l'aggravante mafiosa per l'ex attaccante di Udinese Juventus, ma armi regolarmente detenute, ma finite al genitore per il quale la pena è di 19 anni. Si ricorda anche la carriera di Vincenzo Iacquinta in maglia bianconera, tra la tripletta al Panathinaikos nell'esordio di Champions e poi il Mondiale nel 2006. Le reazioni di tutti i suoi ex compagni preferiscono fare il silenzio, stare appunto in silenzio, non commentare la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Iacquinta. Andiamo anche sulla Serie A femminile, perché ieri è tornato in campo il Tavagnacco, un pari beffardo, perché era avanti di due gol con la Roma. La squadra di Mister Rossi poi si è fatta raggiungere al novantesimo. Le marcature nella ripresa Erzen, al diciannovesimo poi il raddoppio di Zuliani, nel 35esimo Bartolini e poi al 45esimo il pareggio definitivo per 2-2 di Simonetti. Questo per quanto riguarda il Tavagnacco. Andiamo ora sul calcio, sul Gazzettino, per tornare a parlare di Udinese e della sfida contro il Milan. Una Dacia Arena verso il Pienone, la miglior ricetta anti-Milan. Domenica sera attesi 5.000 tifosi rossoneri, previsto il tutto esaurito come contro la Juventus. Il tecnico spagnolo pensa ancora alla difesa 3, che ha dato garanzie contro il Genoa a Amarassi. Andiamo a vedere nell'articolo a firma di Guido Gomirato. Il Milan non ci fa paura, è il ritornello che ripetono i bianconeri, che evidentemente cercano di caricarsi nella giusta maniera per cercare di dare un senso e soprattutto un seguito al pari conseguito a Amarassi. I dubbi quali sono? Ieri si è rivisto in gruppo Macis, che si era infortunato alla vigilia della gara con la Juve e ha svolto, come abbiamo visto prima, un allenamento per cui dovrebbe essere convocato per domenica, anche se Velázquez presumibilmente vorrà averlo al 100% per la gara contro l'Empoli. Ma il fatto che l'infermeria si stia svuotando oppure Pezzella è tornato a lavorare è un segnale che il momento di difficoltà, culminato con quattro capitomboli, potrebbe essere già concluso. Sul fronte difesa la retroguardia vede il dubbio su chi dovrà sostituire Nointing, anche se con altri compiti, che avrà probabilmente per altre due settimane dopo aver accusato contro il Napoli un malanno muscolare. Vague sembra favorito su Opoku, che non ha pienamente convinto Genova, rimane solamente da stabilire chi sarà il nocchiero di Bianconeri con la difesa a tre. La ripresa degli allenamenti, stamattina una seduta che si annuncia intensa con una partitina finale, 11 contro 11, nel corso della quale Velázquez dovrebbe provare l'assetto tecnico-tattico anti-Milan. Poi naturalmente l'allenamento dovrebbe svolgersi a porte chiuse, l'Udinese si allenerà sempre di mattina, anche domani e sabato, ancora a riparo da occhi indiscreti. Domenica l'attesa, la Dacia Arena dovrebbe essere quasi completamente riempita, la rappresentanza milanista annunciata numerosa, almeno 5.000 supporter, tra coloro che arriveranno da Milano e dalla Lombardia. Anche il Gazzettino si occupa del caso di Vincenzo Iacquinta, condannato a due anni per reati legati al possesso di armi, rovinato sul nulla. Questa è la sua risposta alla decisione del Tribunale. Torniamo a parlare di calcio giocato, di Udinese con Pussetto e Samir, che potrebbero essere le mosse di Velázquez. Velázquez, i duelli domenica sera potrebbero rilevarsi determinanti, i duelli tra Samir e Suso con il difensore brasiliano, che a Sport24 ha parlato del suo processo di crescita in Italia. Quando è arrivato all'Udinese, a nessi sei mesi di Verona, Samir è stato un po' sballottato sul campo, subendo una lenta progressiva trasformazione da centrale difensivo a Terzino. Ho giocato da Terzino un po' di tempo, ma per quanto mi riguarda l'importante è scendere in campo, a prescindere dalla posizione, ha dichiarato Samir. Poi l'Italia è una grande scuola per un difensore, sono nel posto giusto. Poi la descrizione di Ignacio Pussetto, l'occorrenza Terzino per interpretare l'esterno a tutto campo nel nuovo 3-5-2. È vero che allenatori vincenti del recente passato, come Murigno, hanno raggiunto grandi successi, chiedendo sacrifici agli attaccanti. Tutti si ricordano il Samuoletto Nerazzurro, ma anche il Cavani napoletano. Vedremo se il giovane argentino dei frulani potrà imitare anche questi giocatori. Chiudiamo la parentesi sull'Udinese, ci spostiamo a parlare di Porrenone, perché ieri era prevista la gara di Coppa Italia di Serie C e i neroverdi purtroppo sono usciti sconfitti in casa dal Vicenza per 1-0, puniti dall'ex Armà. I Vicenza sbanca il bottecchia, i Ramari dicono subito addio alla Coppa Italia di Cil, la seconda sconfitta in appena 4 giorni dopo quella con la Fermana in campionato. Decisivo lo spunto dell'attaccante marocchino, palo clamoroso di Bassoli, su angolo di Ciurria. Il gol di Armà è stato siglato al 13esimo del secondo tempo. Andiamo a vedere anche i giudizi sui più e meno per quanto riguarda i neroverdi. Meneghetti, tra i promossi con il suo valore tra i palli, sfoderanno una serie di ottimi interventi. Il futuro è tutto suo, ha giocato il secondo portiere. Poi Zamunera, al suo ingresso al 17esimo, ha contribuito a rivitalizzare un Pordenone in quel momento incapace di cambiare ritmo alla partita. Vale lo stesso per Deanna e Bertoli, oltre che per gli ultra neroverdi, ma i zitti a cantare per la loro squadra. Dietro la lavagna, invece, semenzato, un'altra gara sottotono e germinale. Anche lui ha sprecato l'occasione per garantirsi un posto da titolare. Questo sul fronte Pordenone. Andiamo ad aprire anche le pagine dedicate ai dilettanti dal Gazzettino. Morandino in rosso-nero tagliato Giavon, l'ex guida del Tamaia al Fontana Fredda. Mi mancava una parentesi importante, intanto è un'eccellenza anche il fiume Bannia, esonera il tecnico. Tocca a Calderone. Nuove movimenti, dunque, nei campionati dilettanti. del strattagliamento, Tita da Pieve nel frattempo Valsevegliano, anticipi delicati. Sarà uno ricco di emozioni in croci pericolosi il prossimo. Torniamo a parlare, però, di Pordenone dalle pagine del Messaggero Veneto che andiamo a recuperare. Vediamo anche qui il racconto della partita di ieri alla Bottecchia. Pordenone giustiziato dall'ex Armà, gran gol al volo, va avanti. Il Vicenza a Neroverdi troppo incompleti per poter competere alla pari. Il Marocchino ancora a segno contro i vecchi compagni. Non riescono a incidere in attacco Bertoli e Germinali. Germinale, palo di Bassoli, un rigore reclamato. Bravo, Meneghetti. Così racconta Alberto Bertolotto. La sfida di ieri sera a Tesser. Peccato per il palo, Bertoli si poteva fare di più. I commenti post partita. Nel frattempo, l'avevamo visto anche prima dalla prima pagina del piccolo, la Triestina è stata penalizzata di un punto e milanese è deferito per sei mesi per la questione della fideiussione arrivata in ritardo ad inizio campionato. Quindi la Triestina che perderà un punto in classifica. Apriamo ora la parentesi dedicata al Giro d'Italia. Avevamo visto sui quotidiani un giro che si svolgerà per molte strade al nord. Un Giro d'Italia che torna a casa. Sarà una grande show. Niente sconfinamenti. Da Bologna a Verona con poco sud. Gli ultimi otto giorni all'insù promettono fuochi d'artificio. Un Giro d'Italia che stavolta non vedrà protagonista la nostra regione. Come già annunciato lo scorso anno, i preparativi vanno al 2020 con un grande trittico che si potrebbe riaprire proprio per il Friuli Venezia Giulia. Queste le tappe con la partenza da Bologna e l'arrivo il 2 giugno a Verona. Nel frattempo tante tappe di montagna e chi potrebbero essere gli sfidanti. Ecco qua il quadro. Nibali che attende i rivali. Tommaso Bernal per Sky e Uno Yates. Supe carico le montagne. Invece Mortirolo Gavi attenti al Mangen. Una salitaccia. Questo è il quadro. Per quanto riguarda il ciclismo ci spostiamo ora al calcio di Lettanti. Con le pagine sportive del Messaggero Veneto ritroviamo proprio il Fontana Fredda che cambia allenatore. Giavone esonerato dal fiume. Il nuovo allenatore rosso-nero sperò di riuscire a portare la serenità giusta. Nero-verdi affidati temporaneamente a Calderone. Potrebbe arrivare Coletto. Queste le decisioni per quanto riguarda le panchine. Poi ieri si giocava anche la Coppa di promozione. Cataruzza e Ludelcorva. Vaiont pari in rimonta. Andiamo a parlare ora di basket con le pagine dedicate all'Apu GSA che continua la sua ripartenza dopo un avvio in difficoltà. Simpson, Cecchino, ma anche vero uomo squadra. Trevis e le quattro bombe di fila grande lavoro dei miei compagni capaci di trovarmi sempre libero con i tiri aperti. Poi le ultime GSA al completo verso Piacenza. Cavina fa il prof. Prosegue la marcia di avvicinamento contro l'Assigieco. La gara si giocherà domenica proprio a Piacenza. I tifosi del settore D sono già pronti per le trasferte in Pullman. Oggi pomeriggio intanto Demis Cavina e il suo staff terranno un incontro di aggiornamento in cui saranno coinvolti tutti gli allenatori del settore giovanile. La storia invece sempre dal basket coach Lino Lardo che torna in pista ha scelto Scafati al posto di Calvani dopo il caso della Flebo. Dopo tre anni a Udine riparte da Scafati il tecnico ex GSA. L'altra storia invece è quella di Reggio Calabria con i conti in rosso. Nobile può finire a Ferrara o Imola eccolo qua Vittorio Nobile in azione con la maglia di Reggio Calabria anche lui un grande ex della GSA. Parliamo anche di Volley con Litas che vola a Sassari in palio ci sono punti che valgono doppio la Serie A2 Martignacco oggi in casa del fanalino di Coda Olbia coach Gazzotti scontro diretto in ottica salvezza. E poi l'atletica leggera è nata in archivio 12 azzurri battuti 34 record del Friuli Venezia Giulia reggono Missoni e Vecchiato la discobola già da Andreutti il mezzofonista Matteo Spanu e di Agostino Nicosia record dei 600. Ci fermiamo qui con le pagine sportive dei quotidiani locali e andiamo ad aprire ora invece le pagine dei quotidiani nazionali partendo dalla Gazzetta dello Sport e torniamo a parlare di Serie A con il racconto della vittoria del Milan ieri nel recupero Dolcetto Milan questo è il titolo in clima Halloween a San Siro la festa di Gattuso dove uno al Genoa Romagnoli gol al 91esimo zona Champions per i rossoneri subito avanti con Suso e i padroni di casa raggiunti da un autogol del capitano che si riscatta nel finale ora i rossoneri sono quarti a quota 18 stessi punti della Lazio ma migliore differenza a reti altre notizie dalla Serie A la Juve il suo asso Palone d'oro Ronaldo in campo per il sesto triunfo ora può sperare l'Inter invece Spalletti alla Mu l'Inter colleziona numeri da triplete e pienoni in casa quante analogie con il 2010 con Genoa e Barsa previsti 140.000 spettatori in totale e poi il Giro d'Italia la presentazione il Giro è bello perché è vario Frum ci sarai tapponi volate crono molto duro e moderno dislivello da 47.000 metri Gavi e Mortirolo insieme Chris dice salite che divino gli uomini dai ragazzi presentata l'edizione 102 da Bologna a Verona il via all'11 maggio siamo all'interno del quotidiano sulla sfida di San Siro di ieri il recupero dicevamo della gara non disputata per il crollo del Ponte Morandi Romagnale in Ciampa poi si riscatta al 91esimo Rosso Neri Quarti all'ultimo respiro vediamo anche quali sono i punti chiave della sfida la difesa 3 smonta il dogma di Berlusconi Piontec ancora secco per la terza partita della gestione Iuri c'è incrocio di portieri Donnarumma c'è Radu fa una frittata questi anche i numeri sull'incontro e poi il personaggio Romagnoli vittoria meritata così mi sono fatto perdonare il capitano troppe critiche a questa squadra non ci abbiamo noi ci abbiamo sempre creduto Lamo Viola non c'è rigore su Piontec Pasqua usa bene i cartellini andiamo anche a vedere i commenti di mister Gattuso e i migliori e i peggiori della sfida un 6 e mezzo di squadra l'allenatore becca lo stesso voto il migliore appunto Romagnoli con un 7 il 5 invece bocciato Bacayoko nel Genoa 5 e mezzo di squadra la formazione che ha visto sfidata l'Udinese a Genoa domenica con il pareggio per 2 a 2 5 l'allenatore Iurice 7 il migliore Kwame bocciato invece Luca Mazzitelli Gattuso cosa dice volevo arrivare qua su ora restiamoci il tecnico del Milan la classifica l'abbiamo aggiustata bisogna però migliorare il gioco il polpaccio di Biglia i tempi di recupero sono lunghi questo emerso poi alla fine partita il Milan che si preparerà poi alla sfida di domenica contro l'Udinese rimpianti del Genoa invece Iuri ci attrattino i grandi un capò così fa male andiamo a vedere anche le altre pagine della Gazzetta dello Sport la Juventus e Cristiano Ronaldo che prova a conquistare un alto pallone d'oro il mondo vota CR7 sogna lanciata la difficile sfida modrice ai francesi Mbappé e Griezmann e all'eterno rivale Messi anche l'inizio con la Juve lo spinge a crederci e poi Allegri ora c'è l'Inter con il Napoli Juve occhio a quelle due nei sette squiretti di fila sempre una sola rivale Allegri vuole blindare la difesa a proposito di Inter dicevamo delle presenze record che sta registrando San Siro per la formazione di Spalletti dei punti alla difesa ecco perché crederci pure oggi meno gol subiti rispetto alla squadra del triplete più vittorie Icardi è partito meglio di Milito questo è il punto sull'Inter un San Siro poi che carica 140.000 spettatori per Genoa e Barsa andiamo ancora avanti con le pagine interne della Gazzetta dello Sport andiamo sul calcio estero Solari il debutto è una passeggiata Realfa Poker tutto facile a Melilla ora il tecnico altre tre gare per convincere Florentino a confermarlo 4 a 0 del Madrid sul Melilla il derby di Lampard invece lo decidono gli autogol ex Chelsea in panchina col derby perde a Stanford Bridge solo a causa di due autoriti dei suoi ampio turnover per Sarri che vince con il suo Chelsea 3 a 2 contro il derby country dicevamo che ieri si è giocata anche la serie B con i risultati che avevamo visto in precedenza ma poi ci sono anche altre storie sulla Gazzetta dalla serie D tra le squadre che cercano di ripartire attenti ai nuovi lupi ieri c'era Dirceo oggi a tutto gas Avellino Sogna in città si vive nel ricordo felice degli anni 80 questo per quanto riguarda le storie che trovate oggi sulla Gazzetta ci spostiamo ora sul Corriere dello Sport l'apertura alla fine gode Rino il Milan vince il recupero contro il Genoa 2 a 1 pallonetto di Romagnoli al 91 Gattuso sale al quarto posto aggancia la Champions decisiva la prudezza del capitano che con un autogol aveva dato l'1 a 1 al Genoa il tecnico dice soltanto l'inizio Lippi il conto il campionato è sempre vivo ce lo racconta l'uomo che ha allenato le prime tre mi rivedo in Allegri Ancelotti e Spalletti ma in Max di più l'Inter ha fatto un grande acquisto l'autostima Ronaldo alla Juve nel momento giusto tre anni fa avrebbe inciso di meno queste le parole del allenatore che ha vinto la Coppa del Mondo con l'Italia nella 2006 sempre dal Corriere dello Sport Malagò Giorgetti scontro totale caso Coni il vertice non ricuce le distanze ci spostiamo ora sul tutto sport l'apertura di pagina del quotidiano Marotta Inter via libera ieri l'accordo con la Juve per la rescissione del contratto il dirigente chiude ufficialmente la sua storia bianconera e ora è libero di rispondere alla chiamata del club di Zhang le altre notizie che troviamo di Taglio Alto Romagnoli Ullo Milan al 91esimo Euro goal del difensore 2-1 al Genoa nel recupero della prima giornata e quarto posto per i rossoneri vedete anche la classifica giornata con in testa la Juve poi l'Inter e Napoli a 22 il Milan con la Lazio a 18 l'Udinese con il Bologna 9 punti le altre storie sempre sul tutto sport il Real rilancia Alex Marcello difficile il rinnovo di Sandro con la Juve il club spagnolo propone lo scambio di esterni brasiliani e poi ancora il Torino Cairo Adagnelli scuse chiare striscioni su superghe e arbitri il presidente del Toro torna alla carica Mazzarri ricorso respinto Zazza scatenato show da Toro alla cena del club cantalino entusiasmo tra i tifosi e poi ancora il Giro d'Italia raccontato dopo la presentazione di ieri da Bologna a Verona sarà il Giro della Fatica tutti contro il Team Sky di Froome Xavier Jacobelli poi racconta la dignità in tela nell'Halloween del pallone ancora la storia delle squadre sospese nel loro destino in attesa si chiarisca definitivamente la questione dei campionati delle squadre che sono presenti in Serie B e in Serie C per quanto ci riguarda per il momento di tutto vi raccontiamo anche quale sarà la nostra giornata assieme sugli schermi di Udinews TV per quanto riguarda l'informazione l'appuntamento sarà alle ore 19 con il TG ma prima alle 17 pomeriggio calcio con tutti gli aggiornamenti sull'udinese sull'allenamento di questa mattina e non solo in prima serata invece alle 19.35 le interviste di Domenico Pecile con protagonista Elisa Toppano marketing manager di Orocaffè l'agenda invece alle ore 21 vedrà un protagonista illustre Saro Ferruccio Saro l'ombra che illumina la regione conducono Alberto Terasso e Domenico Pecile questo è il quadro della nostra programmazione siamo pronti prima di salutarci anche a raccontarvi quale sarà il tempo per la giornata allora diamo il buongiorno a Sergio Nordio previsore dell'Osmer Arpa ben trovato Buongiorno ben trovati anche a voi abbiamo un nuovo fronte che sta interessando la nostra regione già sono iniziate le piogge e saranno più abbondanti anche intense già nel corso della mattinata su tutta la zona occidentale ma anche in provincia di Udine e soprattutto sulla zona montana su Alpi prealpicani che sono attese di nuovo piogge abbastanza appunto abbondanti potrebbe esserci anche qualche locale rovescio temporalesco sulla costa dopo il vento moderato stamattina dal nord est seguirà di nuovo lo scirocco abbastanza sostenuto soprattutto a Lignano e verso il Veneto quindi di nuovo correnti meridionali l'atmosfera rimane molto mite quindi restano temperature ancora alte e la tendenza è che nel corso del pomeriggio sera questo fronte se ne va da via quindi dovremo avere poi un'attenuazione delle piogge che comunque saranno più deboli sulle zone orientali soprattutto sulla costa per quanto riguarda domani ancora cielo in prevalenza nuvoloso un altro fronte arriva un fronte successivo decisamente più moderato rispetto a quello di oggi avremo comunque delle piogge nuovamente nel corso della giornata di domani probabilmente già al mattino anche qua piogge sparse moderate insomma l'atmosfera resta ancora umida va meglio sabato e domenica nel corso della mattinata di sabato avremo un miglioramento entrerà un po' di borino dovremo avere poi una fine della settimana discreta se non buona ancora però con aria mite quindi tutto sommato un autunno che per il momento sta mostrando appunto queste correnti meridionali e tanta umidità ma insomma domenica andrà un po' meglio grazie grazie e buon lavoro a Sergio Nordio e ai previsori della Smerarpa che ci hanno raccontato dunque l'evolvere del clima in regione ci fermiamo qui grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti